Mishbe Ciao creatura Io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosai A S M A Sono Ecate Splendente del Futuro L'audio di questo video ha avuto dei problemi si è appaggato e a inizio video ho salutato alcune persone che mi sostengono sempre commentando e commenta 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 così verrai anche tu salutato nei prossimi video Saluto anche Anbos 0482 Filippo smr grazie mille La nuvola e la luna 4345 grazie mille il tuo sostegno Fiammetta tonti 3929 grazie mille Chiara 99 grazie Crispy McBacon grazie mille Cogito Ergo Sum 4202 grazie mille Martina 4477 grazie mille angicat Violet 586 grazie mille per il tuo sostegno anche su Instagram ok vediamo chi altro c'è da salutare e graziare Gold Mary Gold Mary la mia professoressa preferita 6385 grazie mille Kick Clack che ha smr grazie mille Sasha Mylove 7228 grazie mille per il tuo sostegno Erika Berrettini 72 53 grazie mille Jan Jan Dob grazie mille Noemi Cherubino 82 39 grazie mille Avkv Caspian che chiede di Avakin mi fa ridere su un gameplay di un'altra cosa ti adoro non importa ma sta interazione e Sush J Mush J non lo so grazie mille comunque per i tuoi per le tue emoji random Carmela Rotat 28 2 grazie per l'emoji random Arianna Coppola 49 93 grazie per l'emoji random Mattia Moneta 53 3 3 5 3 3 più bello detto così grazie mille Giulio 56 88 grazie mille Zocchina grazie mille continuate a lasciarmi like commentare i video con emoji random oppure con delle emoji cioè con dei commenti anche seri come preferite e se vi va anche condividete i miei video ai vostri amici familiari conoscenti colleghi a chi vi pare adesso finalmente dopo questa premessa di saluti ma dopo tutti questi saluti iniziamo a giocare però ci tenevo tanto ecco benissimo perché è giusto anche che perché vi meritate anche di questo ok allora cosa dovevamo fare la cucina e la camera da letto di ricordi creatura benissimo allora andiamo in camera da letto andiamo a vedere che cosa abbiamo abbiamo ben quattro scatoloni ecco qua ecco qua siamo già qui coi vestiti qua le camicie le camicie le camicie i reggiseni eh li avevamo già posizionati no? allora mi prendo il cassetto basso per i reggiseni mutande mutande qua ho messo i calzini allora eh non so quanti saranno vabbè mettiamo mutande i calzini per adesso poi vedremo se ci stanno magari anche dove ci ho messo il reggisino non so eh quanta roba che bello sto reggisino di pizzo bellissimo ne ho uno simile tra l'altro non so bene organizzarmi con i cassetti così perché non so quante 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 cose abbiamo capito qui c'è un'agenda che potremmo anche mettere qui perché di là non c'è più spazio se ti ricordi qua ho messo di beh questa valigetta qua si può spostare volendo questo mi sembra un brucia incensi o sbaglio ma pigiama si non è una tuta un pigiama mettiamo qua portata di mano che volendo si può mettere qui oh un calzino abbiamo deciso che quelli sono i calzini questi ricordi ok mutandine mutandine con il fiocchettino rosa molto cute oh queste sono già più sexy da abbinare a questo riciceno direi eh già è su completo ah beh potremmo giocarci potremmo giocarci a letto con questa console e con i giochietti lo mettiamo qua ok questi erano i penarelli se non sbaglio che lì dentro eh ma qua non ci sta più niente secondo me tanto se non gli fa bene affino il gioco ce lo fa spostare eh eh dove lo mettiamo pennarelli 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 non so se ce ne saranno altri intanto li metto qua poi vediamo ecco infatti ce ne sono un un lettore un lettore musicale il nostro solito album che poi è quello che abbiamo scelto all'inizio o nella prima puntata anche questi potrebbero andare qua il peso l'avevamo messo sotto al letto qualcuno l'aveva suggerito così quindi io andrei a rimetterli sotto al letto sotto al letto ah musantini sexy eh allora non mi piace questo dispositivo allora vediamo un pochino e anche o meglio che no mi piace questo accidenti vabbè non ci sta male ok poi wow che bel vestito andrebbe qua secondo me perché così non si struppiccia ecco eccolo il simpatico maialino devo metterlo qui nascosto le mutande di mio marito che sono in realtà calzini non ho ancora capito abbiamo deciso che quelli appallotolati così sono i calzini invece questi piccati così sono le mutandine ops ok una giacca abbiamo finito le cruci qua aiuto allora dovremmo sacrificare una camicia mi so che anche sta camicia vera sacrificata eh questa è quella da lavoro jeans che vuoi qua tanto ma gli altri di giro te ne mettiamo un po' ah la gonna niente le gonne le gonne ma si possono mettere secondo te ah qua ci stanno le gonna perché sennò si potrebbe mettere non lo so dentro i cassetti potrei mettere le sue le mutande di lui i calzini di lui se non so tante tutte insieme stessa cosa qua e poi me ne vuole un cassetto dove mettere qualcosa adesso vediamo intanto le gonne le mettiamo qua poi si vedrà i pantaloni eh non me li fa mettere sopra gli altri pantaloni come amore non mi fa mettere un pantaloni sopra l'altro come mai un'altra scarpa allora ho una cruce grazie non ci mettiamo ah ci sono altre cruce piccoline però c'è una da bambina ci stanno le gonne nobbero non mi fa mettere non dovrei togliere questo peluche sicuramente così si me li fa la genoma li fa mettere uno sopra l'altro se ci sono i vestiti sopra però si metto dei vestiti corti forse forse si vedremo ecco tipo si metto questa maglia me la fa mettere ok vediamo qui cosa c'è cappellino da lavoro dovrebbe stare qua quella roba da lavoro però allora aspetta questo era da lavoro no qua c'è mamma qui sono maglie carottiere maglie la roba da lavoro me la fa mettere qua perfetto cappellino però non me lo fa mettere vabbè intanto lasciamo lì poi vediamo e qua me lo fa mettere cappellino aspetta e qua non ci si può taccare niente aspetta che c'è il cassetto lì qua non fa taccare niente scusa è una curiosità ma si aprono le finestre? no sarebbe stato troppo bello questo lo andiamo a posizionare vediamo un po' il bagno non c'è posto qui non c'è posto qua non c'è più spazio oddio dove lo mettiamo questa? non c'è posto ovviamente dobbiamo metterlo dobbiamo metterlo quel cassetto eh per forza a meno che qua questi non si spostino ma non si spostano quindi questo va ehm lo metteremo sotto il letto qua sotto no allora ci starebbe dentro un cassetto anche volendo ah lo possiamo mettere ehi la lo possiamo mettere qua sotto ecco si era bloccato il mouse comunque ehm possiamo metterlo qua sotto per adesso questo sotto il letto come vi avevate detto guardate la crucettina eh ci starebbe una gonna lì uh la borsa la borsa allora allora un'altra scarpa oh no quante scarpe sono perché scusa un attimo starebbero qua eh starebbero qua anche alcune scarpe eh allora no no lo mettiamo qua perché preferisco metterci le scarpe ecco questo io vorrei mettere tutta la roba da lavoro insieme se non è un problema troveremo il modo tutto vuole di creatura adesso organizziamo meglio i i i cassetti questi dato che abbiamo finito allora io direi di organizzare meglio questi cassetti eh allora no sarà meglio il contrario che sono meno questo sì però non è però eh proviamo di ce ne stanno vediamo uno due tre non so se ci stanno tutti eh proviamo in ordine sparso poi perché oppure dai che fosse fosse ho vinto ho vinto uno stick a spiancheria ordinata non ci credo mi sono andata nel suo cassetto non pensavo e allora mi vorrei dire una cosa non ci stanno tutti scommendo eh manca uno accidenti mi manca questo che peccato che peccato eh eh lo so incidenti non ci sta proprio vero? che peccato questa cosa mi mi triggerà tanto incidenti ma noi abbiamo solo questi pochi calzini io non ci credo secondo me in cucina troveremo altri calzini mh allora questo volendo non ci sta qui quindi adesso lo schiaffiamo sotto il letto ok però però abbiamo due cassetti vuoti dobbiamo mettere altro a parte i reggiseni i reggiseni che però mi mettiamo sotto mettiamo così qua c'è un altro spazio per il pigiama ecco questo a posto quindi si è liberato spazio anche qua e le cose da lavoro non ci stanno qui quindi per forza le cose da lavoro i jeans ci stanno qua perché non mi fa mettere ce ne stanno pochissimi uno due e basta no forse le t-shirt ok allora mettiamo le t-shirt non ci stanno tutte accidenti mannaggia le gonne non ci stanno sono troppo voluminose qui qui c'era pantaloni da ginnastica la con non ci sta nella girona anche bisogna ottimizzare qua perché non ci sta neanche il cappellino però ci possono stare mettere le cravate le cravate so che ce n'era un'altra non riesco a bisogna ok qua ci mettiamo le cravate e allora a questo punto mettiamo questo e che potremmo mettere ah no ci sta anche quello che potevamo mettere siamo sicuri che non ci sta questo e questo console ci sta chi è? via 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 tutto ah no aspetta questo ci sta no non ci sta questo secondo troppo grande il console è l'unica cosa che ci sta questo lo possiamo mettere qua e qua nel frattempo metto questa gonna solo perché no dai no no la gonna la mettiamo qua aspetta se no la facciamo così no no accidenti perché basta un po' sta roba io eh non me la metto comunque pensavo che ah se non ci fosse questa gonna scusa ah bene la lasciamo così ok la lasciamo separato così poi vediamo un po' la borsa la potremmo mettere qui e poi ah qui c'è un sacco di spazio adesso questo ma non possiamo fare così questa vediamo la fametta da qualche parte no e e allora c'era questo vestito però l'abbiamo è lungo quindi non ci sta lo terremo qua insieme a questa pelle elegante qua mettiamo i jeans adesso abbiamo anche un sacco di spazio abbiamo un sacco di spazio in più adesso e quindi volendo la borsa si potrebbe mettere anche qua e peluche non ci sta più però tiè volendo allora anche questo lo possiamo mettere qua oppure possiamo mettere l'album dai lasciamo così mi piace mi piace ok chissà cosa c'è in questa valigietta ok e penso che abbiamo finito andiamo alla la cucina c'è un bambù qua lo spostiamo oh no la biscottiera la biscottiera la biscottiera si misurini allora vediamo un po' qua sicuramente no perchè tutto pieno potrebbe andare qua ok altre misurini le cap proprio le cap quelle americane apri apri scatola per scatola no questa è una per scatola vabbè comunque tutti questi tool per aprire scatole bottiglie cose varie cos'è questo lì? il pepe? no quello è pepe non lo so cos'è le spezie ma cos'è questo? per i piatti rossi? si mi sa che per i scolapiatti potrebbe essere le spezie quante sono le spezie? sono solo quelle possiamo tenerle lì da notare che però abbiamo anche questa parte qua potrebbero andare anche qui le spezie un po' in alto si però non è che le usi sempre tipo peperoncino sale e bebe si ma il peperoncino non è che si usa sempre io lo zucchero lo metterò vicino alla macchina del caffè l'olio l'aceto per condire altre spezie le mettiamo qua le spezie ok qui le altre tool quello per spremere l'aglio credo eh cos'è? una cartolina da mettere sul frigo in un viaggio altre cartoline foto foto cartoline ma perché non me le c'entra? che fastidio o le metti tutte da un lato o le metti tutte schiaffate le schiaffiamo così che brutta che è questa distanza vero? no no si potrebbe mettere anche un po' così un po' disordinate anche se perché siccome non me le mette in ordine come voglio io le preferisco disordinate ok? il bollitore il bollitore mettiamo qua il guondiriso il guondiriso no guondiriso come si chiama? il bollitore per il riso mettiamo qua il cuociriso no la cosa della nonna e adesso dove la mettiamo? ah sai che si potrebbe mettere qua solo qui nonna questa potrebbe stare qui comunque non per dire ecco la la pintola della nonna non so dove metterlo perché non c'è più un cassetto grosso eh vabbè vediamo che stavo col cacchio però vabbè aspetta aspetta ti è? questi eh ma scusa ce ne voglio dire se abbiamo più spazio con la pasta mettiamola qua eh la borraccia ho deciso la teniamo fuori ok eh ho visto che ce ne erano qua non qua strofinaccio no strofinaccio si cos'è questo? oh no oh no che cos'è questa scatola? quello un gatto un computer no? guardate c'è un gatto disegnato lo mettiamo qua tanto se non gli va bene ce lo dice il gioco ecco una la tavoletta quella grafica la disegnato tenevamo qua aspetta allora ecco potremmo fare così eh che cos'è? una lavagnetta questa potrebbe stare sul frio allora no aspetta non la voglio così possa accidenti accidenti è anche una probabilmente ok si ma non mi piace mica questa cosa qua così è tutto troppo appiccicato però vabbè dai facciamo così è la lavagnetta quella dove scrivi non so manca latte cose che io ah io in realtà ci scrivo anche tipo gli ingredienti della ricetta che andrò a fare se sono torte o il coltello ah ci sta ok nooo dov'è il bidone dell'impotente ah solo orizzontale che rompe palle ah no me lo metto in verticale se è posto ok eh ma questo perché non me lo metto qua scusate no no aspetta aspetta bisogna incastrare tutto perfettamente eh allora c'è posto c'è posto c'è fuori che rompe ecco questo lo mettiamo ah questo va nella doccia ecco 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 abbiamo anche giustamente le nostre che ce le fanno mettere male il dostapane lo mettiamo qua il dostapane lo mettiamo qua lo mettiamo qua la stellina e basta abbiamo finito ecco questi non li vuole qua ovviamente questo lo posso mettere qua anche questo vediamo ah ok adesso li va bene allora però non vanno non vanno più bene a me adesso qua non si vedono ci sta più niente un dostapane ci sta questo questo lo dovremmo mettere qua questo lo mettiamo qua ci sta questo qua questo qua e questo qua e anche questo qua no ci sta e questo qua vabbè non ci vediamo qua non mi piace tanto che sia qua però vabbè va bene ok così gli va bene però vedo che c'è qualcosa che lampeggia non è qui è in camera da letto oh no non gli va bene il gioco qua e anche questi non gli vanno bene qua accidenti oh no allora lui non lo vuole qua lo posso lasciare a letto allora va bene questo che cos'è questo che dove andrebbe posso lasciarlo qui brutto la tavoletta grafica non la vuole qui allora dove la andiamo a mettere la tavoletta grafica qui vabbè ho risolto in freddo stavolta wow bello stickers vediamo cosa ci dice ora che mi sono trasferita ah ecco ora che mi sono trasferita da lui le cose si fanno serie ah bene siamo quindi siamo noi a casa di lui ok settembre 2010 vediamo nella prossima puntata che cosa avremo in anteprima in anteprima siamo un po' 2012 o c'è una stanza la camera di un bambino sembra la nostra vecchia stanza non ci saremmo mica lasciati no due stanze solo perché perché solo due stanze non lo so lo scopriremo nella prossima puntata metti le tue ipotesi perché ci sono solo due stanze e quella stanza lì beh è bella grande questa potremmo avere dei figli però effettivamente potrebbe essere la stanza di nostra figlia con le nostre cose vecchie siamo tornati nella vecchia casa no è diversa vedo però che insomma delle cose ho mantenuto delle cose di quando era bambina queste cose qui non so cosa signano orcobaleno però vedremo vedremo vedremo